Le lacrime e la disperazione di Nella Fiorin, mamma della 26enne, scomparsa da oltre un anno da Cazzago di Pianiga, hanno colpito anche il sindaco. La donna ha raccontato come delle vicine di casa l'abbiano avvicinata per dirle che sua figlia Florina è stata ritrovata morta. Il fatto del genere crea sicuramente grandissimo stupore e sconcerto perché avere persone che vanno ad accanirsi di fronte a una situazione familiare, a un dramma familiare già così forte, ha quasi dell'incredibile. Certo posso dire che non so chi l'abbia fatto ma sicuramente questi atteggiamenti non rientrano nel DNA dei pianighesi e dei cazzaghesi. Il sindaco che conosce la famiglia da tempo condanna questo comportamento nei confronti di una donna già provata dalla scomparsa della figlia e si rende disponibile nel dare una mano. C'è un detto da noi che dice che la mamma dell'imbecille non smette mai di essere incinta e in questo caso di imbecilli ce ne sono tanti. Purtroppo è successa a lei, spero non succeda più e anzi se ci sono cose di questo genere è bene comunque sempre segnalarle ai carabinieri e all'autorità competente onde evitare che questo possa verificarsi da altre persone. Grazie a tutti.